buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 7 luglio 2022 e sono le 7 del mattino un orario ancora fresco per iniziare bene la giornata e noi la iniziamo dando un'occhiata ai giornali passando per prima sul almanacco e nell'almanacco vediamo il santo del giorno oggi si festeggia il beato benedetto undicesimo papa era nicolò di boccassio così era il nome da laico il nome della sua famiglia nacque nelle 1240 a treviso era dunque italiano domenicano insegnante di teologia a venezia provinciale del suo ordine questa è un po la progressione della sua carriera ecclesiastica ministro generale dei predicatori e nella contesa tra bonifacio ottavo vi ricordate il papa di dante e i colonna si schierò dalla parte del papa il quale lo nominò cardinale alla morte di bonifacio ottavo fu scelto come suo successore condusse condusse una vita austera improntata a una costante azione di pace tra le famiglie di quel tempo che erano in contesa in guerra tra loro ebbene la sua devozione fu dimostrata anche da diversi miracoli che gli sono stati attribuiti il tempo passiamo ora alle previsioni del tempo avvio stabile sulle marche c'è una certa instabilità già da ieri le previsioni avevano annunciato un cambiamento del tempo forse anche qualche nube carica di pioggia sulla costa la pioggia non c'è stata oggi comunque c'è la stessa previsione forse qualche nube qualche temporale potrebbe scatenarsi al momento però le temperature si mantengono dai 22 ai 28 gradi sono sempre temperature piuttosto alte in serata è atteso un forte peggioramento anche sulle coste così dicono le previsioni i venti sulle coste da una da una tensione media da nord ovest all'interno invece debole da evest le temperature come abbiamo detto sono in leggero calo apriamo il giornale sulla pagina di fano del resto del carlino e vediamo la fotografia di un giovane che si sta facendo onore si tratta di un giovane fanese lo vediamo qui nella foto alla corte di john elkan è uno tra i 30 talenti internazionali selezionati per la venture originator un programma di accelerazione per start up innovative nella holding exor si chiama filippo sergenti ha compiuto 20 anni studia ingegneria fisica qual è la sua prerogativa qual è il suo vantaggio ebbene filippo argenti studia ingegneria fisica al politecnico di milano e negli ultimi mesi è stato impegnato nello sviluppo di un'idea imprenditoriale basata sul full time degli spazi della start up village di ogre tech di torino che cosa vuol dire tutto questo per i profani è un linguaggio un po astruso ebbene lui ha sviluppato insieme ad altri giovani una una start up ovvero un inizio di impresa per quanto riguarda i video game il gioco è un ingegnere per quanto riguarda il il gioco nelle il gioco con il computer una performance nel gaming così si chiama ci sono molti termini inglesi in questo settore comunque lui è un mago per quanto riguarda le elaborazioni computerizzati e per questo è stato scelto appunto da john elkan una città passiamo ora alle alle notizie più generali che riguardano più la città una città a misura di bambino è stata presentata ieri la nuova edizione dei giovedì sotto le stelle è un'edizione tradizionale che da tempo si svolge a Fano per quanto riguarda l'attenzione che la città dedica ai bambini e ogni giovedì da oggi a settembre quindi per tutta l'estate in piazza 20 settembre si svolgeranno dei giochi delle iniziative anche didattiche che riguardano i bambini sono dieci appuntamenti tutti dalle 21 alle 23 da stasera all'8 settembre a cui alle tradizionali attività di gioco si unisce anche il cinema si uniscono anche incontri di carattere didattico insomma è una occasione per le famiglie per il papà per le mamme e i loro figli di trascorrere una serata all'aperto divertendosi riposandosi magari assaporando un po' di fresco che nelle ore serali si sostituisce all'afa del giorno e poi il resto del Carlino evidenzia anche un'iniziativa che si svolge nel fine settimana a Fano a Tombaccia e la festa del fritto che risorge dopo gli anni del lockdown insomma del momento più duro della pandemia un lungo weekend di festa a Tombaccia per risaldare un po' tra i cittadini del quartiere e quelli della città un rapporto che magari con questi anni si è un po' allentato ebbene la festa del fritto si prende per la gola perché il fritto un po' va bene per ogni età per ogni tipo di cibo insomma si dice che ogni cosa fritta è buona a prescindere da che cosa sia ebbene ma il fritto di Tombaccia è un fritto di qualità si incomincia sabato con ci saranno poi tante animazioni si comincia con la scuola di ballo Dance Mania alle 19.30 e poi ci sarà orchestra, musica, giochi per i bambini e poi domenica gli stand del fritto riaprono alle 19 e per tutta la serata ci saranno divertimenti per i più piccoli quest'anno c'è una serata in meno rispetto al passato ma insomma gli volontari di Tombaccia ce la mettono tutta per animare e far divertire un po' tutti i fanesi non solo quelli del quartiere passiamo alle altre notizie l'allarme della siccità crea problemi anche al canale Albani ma le istituzioni corrono ai ripari il comune ha alertato la task force del canale Albani costituita in modo particolare dalla associazione canale Albani progetto Ugo Ugo è il cigno nero che naviga nel canale Albani e poi c'è anche l'Upus in fabola il club Mattei per quanto riguarda la protezione civile questi controlleranno le paperette, le ocche tutti gli anatidi che nuotano nel canale invece è nel Green Power che gestisce proprio il canale Albani penserà ai pesci insomma c'è il canale magari il livello dell'acqua che cale i pesci potrebbero soffrirne in questo caso entrerebbero in funzioni i pozzi di acqua non potabile che assicureranno l'ossigeno alla fauna ittica un altro articolo riguarda la carnevalesca sembra che ci siano contatti tra le due liste concorrenti per fare un listone unico ieri si sono incontrate ma non c'è un nulla di fatto si è deciso di rivedersi tra una decina di giorni qual è il conquibus e qual è il punto del contendere? ebbene ci sono due candidati che aspirano alla presidenza uno è l'attuale presidente Maria Flora Gianmarioli che ha rinnovato la sua candidatura quell'altro invece Fabio Barnesi la lista concorrente che dà la scalata al consiglio direttivo entrambi vogliono fare il presidente ma il posto è unico quindi o si troverà un accordo oppure decideranno i soci della carnevalesca quando voteranno appunto il nuovo direttivo passiamo a Mondavio a Mondavio l'Aventino della Regione è stato miserevole e questo il commento di Girolamo Martini che è capo dell'opposizione del Comune di Mondavio il quale è stato organizzatore dell'incontro col Ministro Giovannini e ha stigmatizzato le sedie vuote riservate ai rappresentanti della Regione l'evento si è svolto il 2 luglio il giorno dopo quello di Pesaro dove è stato confermato l'arretramento della Ferrovia Adriatica un commento questo dell'opposizione che sancisce un po' il comportamento dei consiglieri regionali ma guardiamo anche la situazione problematica delle guardie mediche nell'entroterra guardie mediche continua l'incastro tra Pergola e Mondavio però ci guadagna Mondavio dice Sandro Franceschetti sul resto del Carlino nel gioco degli incastri perché entrambi sono dipendenti l'uno dall'altro per il quarto mese di fila anche per tutto il mese di luglio le sedi delle guardie mediche di Pergola e Mondavio funzioneranno in maniera integrata se è scoperta uno entra in funzione l'altra oppure viceversa ma rispetto a giugno quando la maggior parte dei turni era coperta dalla città dei bronzi ovvero da Pergola stavolta su 33 totali i turni a partire dalla prossima notte fino al 31 luglio 24 sono a pannaggio di Mondavio e 11 di Pergola questa volta appunto ci guadagna Mondavio i cittadini di Mondavio che avranno una guardia medica più a portata di mano a Urbino la Croce Rossa sbaraglia tutti è una squadra di giovanissimi volontari che primeggia alla gara regionale per la qualità dei soccorsi e va alle finali insomma sono volontari che sono molto molto perfezionati per quanto riguarda la loro attività sanno fare il loro lavoro non dico il loro mastiere perché sono volontari però insomma sono quasi sono anzi come i professionisti che sanno intervenire nel modo e nel momento opportuno quando c'è bisogno di loro a Cagli gli ambientalisti contro il lago il lago che dovrebbe essere formato per l'innevamento artificiale per le piste da sci che ci sono sul Catria mentre si parla tanto di siccità di creare invasi per il contenimento di acqua potabile in questo caso lo scopo è un altro quello di garantire la neve sul Monte Catria quando la neve non c'è c'è una forte contrarietà chi protesta chiede che gli enti chiamati a firmare per i lavori non procedano e tutto si fermi a questo punto diamo un'occhiata anche alla pagina pesarese del resto del Carlino e vediamo come è stato siglato il patto per la nuova questura dobbiamo dire che la venuta a Pesaro del ministro della difesa Lorenzo Guerrini ha risolto parecchie situazioni quali sono queste situazioni? per esempio sono quelle della caserma Cialdini dove dovrebbe insediarsi la nuova questura 15 milioni per fare tutti i lavori e poi anche l'ex intendenza di finanza di Piazza del Popolo 9 milioni e mezzo Rocca Costanza 7 milioni e mezzo la caserma del monte 7 milioni e mezzo ognuno di questi immobili va ristrutturato e adeguato ovvero reso efficiente e lo Stato ha deciso di farlo è intervenuto mettendo a disposizione di Pesaro circa 40 milioni di euro una cifra notevole che vanno spesi un po' alla volta però ci sono e sono lì pronti a essere impiegati per firmare l'accordo hanno voluto esserci ieri il ministro della difesa Lorenzo Guerrini di rientro dalla Turchia poi c'era anche è venuto tramite video il ministro degli interni Luciana Lamorgese e poi ancora Alessandra Del Verme direttrice nazionale del Demanio ovviamente c'era anche il sindaco Matteo Ricci anche gli organici respirano 25 divisi in più per l'estate ebbene l'intervento di questi ministri ha portato anche una buona notizia per rafforzare l'organico delle forze dell'ordine sono 9 uomini in più alla Guardia di Finanza di Pesaro 9 alla Polizia di Stato e 6 ai Carabinieri dal Maxi Schermo che è stato allestito ieri nel Salone Metaurense di Pesaro è intervenuta la ministra dell'interno Luciana Lamorgese che ieri pomeriggio ha annunciato questo rinfoltimento delle forze di Polizia e veniamo a vedere anche quello che accade per la siccità Cava di Sant'Anna un invaso già pronto l'area abbandonata da decenni potrebbe trattenere oltre un milione di metri cubi i tecnici di Marche Multiservizi sono già pronti per il sopralluogo l'acqua sarebbe subito disponibile per la potabilizzazione senza bisogno di investire grosse cifre e fare quindi costose opere di aduzione ebbene un sopralluogo molto molto opportuno questo per quanto riguarda la fornitura di acqua potabile è un reperto un reperto che è giunto a Pesaro di grande valore etico e di grande valore morale è la carcassa dell'auto di scorta che è saltata in aria durante l'attentato a Falcone l'auto di Falcone al liceo gli studenti che l'hanno accolto sono quelli del gruppo io non ho paura il canto e l'emozione degli allievi del Marconi all'arrivo della macchina la teca con le lamiere scortata dagli agenti farà da memoriale vivente è una immagine concreta reale quella che si presenta davanti agli studenti che ovviamente partecipano con emozione a quanto avvenuto negli anni infuocati della mafia in Sicilia e ora è un incentivo in più per diciamo così educare i giovani al rispetto delle istituzioni e a lottare contro la delinquenza organizzata che se non ha anche il nome di mafia però esiste anche in altre sfaccettature e veniamo alla cronaca vediamo il reddito di cittadinanza percepito da una coppia che però coltivava marijuana in manette è finita una coppia di Monte Calvo lei era destinataria del sussidio scoperte 80 piantine e 4 kg già essiccati in casa lui era disoccupato lei non aveva molti soldi e quindi per rotondare il bilancio del reddito di cittadinanza avevano pensato di coltivare la canapa indiana ma sono stati scoperti ed ora vediamo il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano apre con l'articolo che riguarda un episodio avvenuto in un bus del trasporto pubblico che cosa è successo è successo che i controllori hanno scoperto due passeggeri che non avevano pagato il biglietto giusto avevano intimato loro di scendere questi si stavano rifiutando è arrivata la polizia che hanno che ha comunque messo pace tra i contendenti tra i contendenti e a questo punto hanno preso tutti i provvedimenti del caso insomma una tensione che poi si è smorzata diciamo così ripristinando la possibilità all'autobus di procedere per la sua linea non c'era occupazione abusiva sono stati assolti i titolari di Stella Maris una sentenza che arriva dopo quasi sei anni di processo sei anni fa la guardia di finanza era intervenuta nel campeggio Stella Maris imputando ai proprietari il reato di occupazione abusiva di area demaniale in realtà la tesi difensiva diceva che così non era il processo è andato avanti e proprio ieri è arrivata la notizia della innocenza della dichiarazione di innocenza da parte del giudice e dei titolari si tratta di Francesco Mantoni e di Amedeo Tarsi che cosa era accaduto era accaduto che il mare erodendo la spiaggia oppure ritirandosi metteva lo scoperto oppure mangiava a tratti di litorale e aveva influito anche su un terreno di proprietà del camping Stella Maris però insomma gli agenti avevano considerato che quello era terreno di Magnale quindi è arrivata l'accusa l'imputazione il processo e ora l'assoluzione dei titolari sono stati sei anni molto duri ha detto comunque Amedeo Tarsi perché insomma in questi sei anni anche se abbiamo continuato a lavorare c'è stata sempre tensione preoccupazione per quello che era accaduto e vediamo a Fossombrone a Fossombrone polemiche per quanto riguarda l'abbattimento di alberi abbattuti gli ipocastani non ho potuto salvarli e la giustificazione del sindaco per le proteste alla vista del taglio di ben 47 alberi comportano un investimento di 240 mila euro i lavori avviati per il rifacimento di viale dei martiri della resistenza siamo come ho detto a Fossombrone ebbene in questo caso non si è potuto fare diversamente secondo il sindaco il gioco valeva la candela e il sacrificio valeva secondo appunto il primo cittadino un buon assetto anche di immagine del viale e martiri della resistenza a Pergola a Pergola danza e teatro per parlare pure di sociale e di ambiente è l'Alter Art Festival per l'inclusione una iniziativa che riguarda spettacolo ma riguarda anche inclusione da parte degli immigrati da parte degli immarginati coloro che hanno difficoltà di inserirsi nel contesto sociale cittadino prima nazionale dello spettacolo di Dance Inn quattro giorni tra danza e teatro nel segno della integrazione appunto a Pergola a Senigallia a Senigallia sei ragazzini sono stati trovati con le bicchiere in mano ebbene dentro c'era dell'alcol c'era del prosecco è stato chiuso in locale rifugio del branco da parte delle forze dell'ordine che hanno scoperto i ragazzini minorenni a bere alcol i minori litigano e consumano alcol questo è un po' un fenomeno che c'è un po' dappertutto arriva la polizia ebbene e commina 20 giorni di chiusura al pub alta marea piadineria chiuso per 20 giorni sulle lungomare a Lighieri dove sabato sera appunto la polizia ha scoperto questo reato veniamo ora alla pagina di Pesaro dove l'articolo è dedicato alla sanità ci sono reazioni per quanto riguarda il nuovo piano sanitario regionale che comporta l'eliminazione dell'azienda ospedaliera Marche Nord non solo Pesaro l'intera regione pagherà la volontà di cancellare Marche Nord è la tesi del sindaco Matteo Ricci ma è la tesi anche di alcuni professionisti e qui vediamo le fotografie di coloro che parlano in questo articolo si tratta di Luca Pandolfi assessore pesarese al welfare un progetto che è ancora poco chiaro secondo l'assessore frutto di volontà politica giocata però al ribasso invece Oriano Giovanelli ex sindaco di Pesaro dice che è un cerino che brucerà le dita per il pesarese nel complesso è un'operazione a perdere anche lui ha un commento negativo l'oncologa l'oncologa Giuseppina Catalani molto nota per quanto fatto durante lo svolgimento della sua professione ho sofferto ha dichiarato per l'ospedale ora mi sento cadere addosso una stanchezza mortale una delusione secondo l'oncologa catalano per le decisioni assunte dalla regione infine Dario Andreoli consigliere della Lega servizi e offerte verranno rafforzati l'integrazione con il territorio sarà reale ovviamente Andreoli appoggia la decisione della giunta regionale e dice speranzoso che la situazione migliorerà ebbene a noi non resta che stare a vedere cancellati tre decenni di sanità l'azienda accorpata all'ast l'esperienza nata il primo febbraio 1995 cesserà il 31 dicembre 2022 questa è la data del cambiamento dell'assetto istituzionale dell'azienda ospedaliera e qui vediamo un escursus per quanto riguarda il passato dell'azienda il primo febbraio 1995 è nata l'azienda ospedaliera San Salvatore il 22 settembre 2009 questa azienda è stata sostituita dall'azienda ospedaliera Marche Nord il 4 luglio di quest'anno quindi pochi giorni fa la giunta regionale approva la proposta di legge che istituisce cinque aziende sanitarie territoriali si chiameranno AST operative dal primo gennaio del prossimo anno del 2023 e qui invece vediamo la foto del primario del reparto di medicina di Marche Nord Gabriele Frausini che dice attenzione è estate è vero la pandemia dovrebbe rallentare la sua diffusione ma non è così non è così quest'anno non è così quest'anno la situazione è più grave addirittura di quella del 2021 che errore abbandonare le mascherine questa non è un'estate tana libera a tutti Frausini registra un aumento di ricoveri a Marche Nord e invita i fragili a vaccinarsi sono una quarantina oggi i degenti nelle unità ospedaliere di Marche Nord sono circa 26 quelli nella palazzina F dedicata al covid dell'ospedale San Salvatore il resto invece è nel reparto degli infettivi dell'ospedale di Muraglia generalmente quando uno viene riscontrato positivo non assume la malattia in forma grave però insomma ci sono anche coloro che hanno problemi e quindi sono realmente a rischio e queste soprattutto sono le persone fragili per entrare e uscire dal foglia e dei portisti serve un semaforo preoccupa sempre più la barra alla foce del fiume le associazioni chiedono degli interventi dunque anche il foglia anche il foglia patisce la siccità e alla foce riemerge letteralmente il problema della barra ovvero quella lingua di terra che ostacola il deflusso delle acque del fiume nel mare il problema della barra un letto di ghiaia inerti e sedime che si sta ingrossando sempre più rendendo difficile il passaggio ai diportisti che hanno le barche ormeggiate all'interno appunto del canale macero maceratese manterrà il nome e marche multiservizi aumenterà il fatturato del 10% i vertici di multiservizi insieme all'amministratore delegato Iesari spiegano come avverrà il rafforzamento nel settore dei rifiuti vediamo anche la pagina di Urbino percepiva il reddito di cittadinanza e coltivava un campo di marihuana e lei è arrestata insieme al compagno ma questa è una notizia che abbiamo già commentato un secondo soltanto per dei titoli di sport Vis Cusumano firma e Sassarini si presenta l'allenatore e per quanto riguarda Fano Fano Schiaroli qui per crescere ancora ancora un rafforzamento dell'organico dei Granata e questo è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata a domani a domani e